Grazie a tutti. 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 In questo senso, dicevo, Dio rappresenta una funzione contro il pensiero canonico religioso, cioè in particolare contro la deriva religiosa che si chiama Teodicea, la giustificazione di Dio. E' un libro della protesta di Dio contro la teodicea, cioè il pensiero fondamentale della religione canonica. Allora, in questo senso, grazie a Dio, nel libro di Dio può essere interpretato come la laicità di Dio nei confronti di questo. E' un'altra fonte di questo titolo, cioè laicità grazie a Dio, attualmente la parte del letto sono arte o grazie a Dio, che è una costruzione, insomma, di questo motto. In questo libro cerco anche di spiegare, insomma, come funziona questa battuta, sono arte o grazie a Dio. Però una cosa che dice più, fra me è più pregnante, è un passo dello Zibaldone di Leopardi, che secondo me è un passo fondante del pensiero laico, come lo intenderei io. Adesso vi leggo questo passo dello Zibaldone, ed è questo. Allora dice, la metafisica, tenete conto di questa parola, la metafisica, perché la fine è in un modo piuttosto sorprendente. La metafisica che va dietro alle ragioni occulte delle cose, che esamina la natura, le nostre immaginazioni ed idee, eccetera, lo spirito profondo e filosofico, il ragionatore, sono i fatti dell'incredulità. Questa è la metafisica laica, diciamo così. Sono i fatti della incredulità. Ora, queste cose furono massimamente propagate dalla religione giudaica e cristiana, che insegnarono ed avvezzarono gli uomini a guardare più alto del campanile e a mirare più giù del pavimento, insomma alla riflessione, alla ricerca delle cause occulte, all'esame e spesso alla condanna ed abbandono delle credenze naturali, delle immaginazioni spontanee e malfondate. Mirabile congeniazione del sistema dell'uomo, il quale non sarebbe irreligioso se non fosse stato religioso. Ecco, quindi qui, diciamo, la pregnanza, l'importanza di questo pensiero di Leopardi sta in molte cose. Per esempio, nel riconoscimento storico che la laicità deriva, diciamo, dalla religione, perché la religione è specie, diciamo, questa rappresentazione di un'insoddisfazione riguardo alle spiegazioni, diciamo così, semplici o alle evidenze, e quindi questa metafisica che va dietro alle ragioni occulte delle cose, lui la vede con questo criterio storico, e già il criterio storico è una delle caratteristiche più regnanti della laicità, del criterio laico. Poi, l'oggetto di questa incredulità, di questa metafisica, è anche le nostre immaginazioni ed idee. Cioè, lui presuppone che questo pensiero irreligioso, derivante dalla capacità critica della religione, come critica della religione stessa, è capace anche di porre i nostri modi di pensare, i nostri criteri, come oggetto di riflessione. Quindi è il pensiero che pensa a se stesso. Questo è, diciamo, uno degli argomenti di questa metafisica di cui parla Leopardino. Quindi non pensa solo alle cose della natura, che esamina la natura, le nostre immaginazioni ed idee, eccetera. Lo spirito profondo e filosofico e il ragionatore, ma abbiamo l'importanza della ragione in questo sviluppo di... verso l'incredibilità, cioè lo smontamento di quelli che sono le immaginazioni malfondate dal punto di vista anche razionale. Ecco, questo qui quindi era, quando dice mirabile congeniazione del sistema dell'uomo, che non sarebbe stato irreligioso se non fosse stato religioso, e per questo, diciamo, laicità, grazie a Dio, cioè, grazie a Dio siamo arrivati alla critica di via stessa di Dio. Queste sarebbero le motivazioni di questo titolo che io ho posto. Ecco, poi ho trovato, diciamo, una citazione di... parlando di laicità, mi sembra elegante partire da Sant'Agostino, che dice questo, adesso non ve lo dico in latino perché sarebbe chic, ma siamo subito alla traduzione, che dice il comprendere è premio della fede, quindi non cercare di capire per credere, ma credi per capire. Ecco, questo pensiero di Sant'Agostino mi sembrava che tracciasse, magari un po' schematicamente, quelli che sono i due vettori inversi del pensiero religioso e del pensiero non religioso. Adesso, a breve, dicendo laico come non religioso, quindi uno può sottilizzare, ci sono anche religiosi che sono laici, eccetera, ma faccio perdere, diciamo, queste sottiliezze e parlo proprio dell'increduità, secondo le opaniche. E cioè, quindi, mi dice, cercare di capire per, non cercare di capire per credere, perché questo è un atteggiamento normale nostro, cioè, se riusciamo a conoscere una cosa, allora crediamo, no, se abbiamo fatto degli esperimenti, se abbiamo visto, diciamo, alla lunga come funzionano le cose, ci sentiamo laicamente in diritto di credere che le cose siano. guardano così, no, questo è, mi dice, no, tutte le cose è la fede che vi conduce alla comprensione. Ecco, questa divergenza dice allora che, diciamo, il rifatto sintetico del credente o del non credente sono appunto che l'uno mette, diciamo, il proprio vessillo, diciamo, il credere, perché il credere è la premessa del sapere, secondo Sant'Agostino, oppure il vessillo del conoscere, che è invece, diciamo, la predessa per il credere. Questi qui sono, diciamo, per cercare di farciare un ritratto dei due criteri fondamentali del credente e del non credente. Ecco, questo per arrivare a una prima approssimazione della questione della laicità. Io tenderei qui, ma poi se possiamo parlarne, a tralasciare quelli che sono gli elementi politici immediati di che cosa vuol dire fare adesso una lotta per la laicità e così via, che possiamo parlare poi quali sono gli obiettivi politici, il conflitto che bisogna tenere alto, eccetera. Cercavo di definire, diciamo, una filosofia, chiamiamola così, della laicità, quali sono i criteri mentali della laicità. Ecco, secondo questa impostazione di Leopardi che io amo particolarmente, la laicità, come la vedo io, non critica la religione perché è troppo metafisica, ma perché lo è troppo poco. Cioè, il fatto che tratta il mistero come una cosa su cui proiettare un mucchio di figure, sostanzialmente questo. Mentre invece questa dell'incredulità, questo movimento infinito, diciamo, chiamiamolo nello spazio del mistero, è quello che dice Leopardi ed è questa, secondo me, la metafisica della laicità, cioè il fatto di avere questo orizzonte irraggiungibile e indefinito di una conoscenza che può crescere. Però sapendo questo, cioè quello che propongo è il fatto che sia il credente, sia il non credente, trattano, hanno da riconoscere il mistero e lo trattano in modo diverso. Cioè, un mistero, per esempio, è... Noi sappiamo anche attraverso la scienza sempre più come sono le cose, ma perché siano, ne sappiamo tanto come l'uomo di Neandertal e anche il Bonobo, diciamo, e sappiamo pochi... non abbiamo una risposta al perché tutta questa roba, diciamo, in cui viviamo siano. Quindi siamo di fronte al mistero e in questo vi ricollego appunto a cosa dice Dio nei confronti degli amici di Giobbe che dice abbiate pazienza, io sono mistero, voi invece credete di sapere come funziona e questo qui è la cosa più blasfema che potete fare. Quindi la religione è blasfema. Perché è, diciamo, la mia interpretazione del libro di Giobbe dal punto di vista di Dio, di quello che dice Dio sostanzialmente, voi che seguite i canoni del fatto della mia giustizia e sapete come funziona la giustizia, tant'è vero che il libro di Giobbe comincia con un'ingiustizia, cioè con un gioco d'azzardo di Dio con il Satana. Ricordate, ma all'inizio la scena si apre in cui Dio dice guarda che roba il mio servo Giobbe come è bravo, eccetera. Allora il Satana gli dice buoni tutti, spaventato, un buco di cammelli, un buco di figli, dei campi a non finire, è ricco, eccetera, se non è buono è come diciamo saccate del marcio fino all'idolo, no? Mettiamolo un po' alla prova, no? Allora comincia a distruggere i figli, questi figli fanno una festa, di crollare a casa in testa come lo tu, e lui continua ad essere Dio e Dio, eccetera. Allora dice beh, dobbiamo colpire lui nella persona, no? Ricordate questa sentenza, è una sentenza mirabile come dramma, e lui lo fa ammalare, eccetera, e la moglie dice smettila di dire che Dio è... e lui invece insiste, però insiste e vuole interrogare Dio, e questo qui è diciamo la sequenza finché Dio dice io sono il mistero, nella mia interpretazione è quello di Dio. E, ecco, ecco, il pensiero di Dio, allora, la licità come la intendo io, critica la religione perché si accomoda, si accomoda a riempire, a proiettare in questo buio del mistero una serie di immaginazioni e si sente in un certo senso risolvere le cose in questo modo. Mentre invece il coraggio del pensiero laico è questa indefinitezza di orizzonte che è definita così, spiegata così da Dio Farli nel passo che vi ho citato. Ecco, questo è diciamo il primo passaggio che volevo proporre. C'è una questione diciamo di che cos'è suadente, diciamo, particolarmente suadente nella religione ed è la questione del senso. Appunto, Sant'Agostino diceva tu parti dal senso, cioè del fatto della fede, quindi sai qual è la sostanza delle cose, hai fede della sostanza delle cose e quindi puoi sapere. è una cosa che vediamo anche in un certo struttura del pensiero anche dei hafamim ebraici ebrei cioè che io adesso vi faccio la caricatura dicendo da che cosa sappiamo che i cani hanno quattro zampe? Lo sappiamo perché c'è quel passo che dice la bide dice oppure il maestro partitale ha detto i cani vanno con quattro zampe da questo lo sappiamo. Dopodiché constatiamo che effettivamente i cani hanno quattro zampe è l'inversione di quello che facciamo di solito cioè del fatto che vediamo che i cani hanno quattro zampe e induciamo in generale che i cani hanno quattro zampe. Questi qui sono un sistema mentale che uso molto che è quello dell'inversione dei vettori che molto spesso delle cose che sembrano dire la stessa roba hanno vettori inversi inversi nel senso pubblico. Ecco la questione del senso l'essere umano è un animale che ha diciamo sete di senso non sapere perché delle cose ma fin dall'infanzia è noto che esiste diciamo l'età dei perché ed è una cosa diciamo molto fondante della persona umana il fatto di sapere il motivo ecco il sistema religioso ha questo di tranquillizzante che magari non sa che cosa sia il senso primo e ultimo delle cose ma pensa che c'è qualcuno che lo sa e questo è molto cioè Dio perché ci sia tutto questo Dio solo lo sa però per lo meno c'è qualcuno che lo sa questo è tranquillizzante invece se tu non pensi non riesci a scogitare questa immaginazione questa figura di Dio hai un dubbio sul senso che è molto più radicale e questo potrebbe essere il dramma psicologico anche del non credente il laico non sa delegare a un luogo che può essere tutto generalmente è Dio che è depositario del senso anche se tu non vuoi cogliere perché Dio è troppo altro però la fiducia è il fatto che da qualche parte del senso ci sia Dio ha dato origine e Dio darà l'escaton cioè l'obiettivo finale di tutto quello che esiste è un sistema diciamo di proiezione di un'esigenza primaria dell'essere umano che è quella del senso ecco allora noi a noi ho cercato di definire così la questione della verità questione molto controverso che però siccome io amo gli schemi semplificati se riesco a arrivare a uno schema semplificato sono contento allora mi sembrava di poter dire che esistenzialmente la verità è quello che pensiamo essere la realtà dotata però di senso la verità è una realtà dotata di senso la cosa rende ancora più relativa la verità perché il senso è qualcosa che riguarda i nostri interessi interessi psicologici cioè il senso è una roba che riguarda che ci riguarda noi è una questione nostra il senso quindi se la verità è una realtà dotata di senso in un certo senso è più relativa della realtà che noi cerchiamo di capire magari senza capirne o riuscire a darne un senso né ultimo né primo il dramma delle verità è questo cioè il fatto di essere legata alla nostra esigenza di senso ecco la religione delega a Dio il senso primo e l'ultimo che Dio è l'inspiegabile in cui tutto si spiega questo qui è diciamo più o meno migrata della religione che Dio è l'inspiegabile in cui tutto si spiega e qui c'è la spiegazione tautologica con se stessa c'è la spiegazione di tautologia finale ecco ecco questa questione dalle verità chiedo scure che devo scorrere la domanda appunto qual è per il pensiero laico qual è il movente del sapere cioè perché noi vogliamo sapere io cercavo quali sono i moventi primi cioè i moventi più elementari in cui ci muoviamo una specie di reversione per vedere tra dove si parte e pensavo che siamo spinti al sapere in negativo per la paura del buio in negativo per la paura del buio cioè vendo come modello il bambino che indotto a sapere subito qualcosa quanto più presto può sapere qualcosa perché si trova come tutti lasciamo stranieri in quanto bambini lasciamo stranieri in un mondo estraneo a noi e c'è una necessità vitale di cominciare a organizzare i dati il sapere quindi è spinto dalla necessità di sopravvivenza come cercando di trovare diciamo la molla più originaria del motivo per cui vogliamo sapere per sfuggire dall'angoscia del buio cioè la paura del buio secondo me è una grandissima rappresentazione di quello che è l'angoscia del non sapere il buio è quello di cui noi possiamo proiettare tutti i nostri spaventi le nostre paure le nostre immaginazioni di pericolo che sono necessarie anche alla nostra sopravvivenza cioè il fatto di sentire paura è una necessità di sopravvivenza se noi fossimo senza paura incorrerebbe continuamente i pericoli mortali questo qui è legato all'istinto stesso di sopravvivenza per il negativo per il nostro desiderio di sapere che poi diventa la scienza spessa diventa il pensiero e così via è spinto dalla necessità di uscire dall'angoscia del non sapere e della paura del buio e poi in positivo invece è riuscire a realizzare ciò che desideriamo qui mi basavo facciamo su due pulsioni originarie assolutamente fondamentali che sono il movente del nostro esistere e appunto è la paura e il desiderio queste qui sono le due pulsioni fondamentali che muovono tutte le nostre azioni con derivazioni naturalmente estremamente complesse magari però se noi regrediamo ai punti di partenza ai punti che ci collegano con il nostro essere animali diciamo così la paura e il desiderio sono le pulsioni che spingono probabilmente queste le paura e il desiderio che sono particolarmente potenti diciamo nel bambino e che però sussistono in tutta la vita anche se noi continuamente ci poniamo magari dei rimedi o delle censure perché sappiamo già di più quindi addirittura certe cose che inizialmente sono eroiche diventano abitudini l'eroismo del bambino di cominciare a sapere delle cose e a connetterle diventano poi dopo la tranquillità dell'abitudine che abbiamo capito diciamo più o meno come funziona un certo intorno paura e il desiderio la paura è quella che ci spinge a creare confini confini sia intellettuali sia fisici e geografici cioè gli facciate dire comunque di colle da queste due cose può essere applicato mi pareva che funzionasse la paura è quella che crea confini la nostra necessità di definire le cose l'attività intellettuale però che nasce dai desideri di creare dei confini di avere delle chiarezze di illuminare l'angoscia del buio cioè per non sapere di eliminare la sensazione di caos quindi la classificazione le parole stesse che distinguono le cose l'una dall'altra queste cose e quindi la paura è diciamo la pulsione essenziale dei confini e il desiderio è invece la pulsione essenziale del creare di carico il nostro desiderio si associa alla paura perché il desiderio spinge all'avventura diciamo così e quindi è associato alla paura dell'avventura quindi continuamente noi siamo ma è la metafora diciamo elementare di Ulisse che riesce a fare l'Ulisse si trova effettivamente disfatto nell'eccesso del mondo rispetto a me ecco questo ora il mio pensiero è il fatto che la religione amministra meravigliosamente queste due pulsioni sono l'essenza stessa del messaggio e del rimedio che la religione dà all'angoscia umana cioè quella di organizzare simbolicamente sia la paura sia il desiderio la paura di finire male di stare male di constatare che diciamo la angoscia dell'esistere la paura del diavolo oppure i desideri invece di una pace un paradiso o altre cose di genere per dire semplificando come si organizzano poi queste cose tenendo conto che l'essere umano appunto è un animale sociale è un animale simbolico e l'attività simbolica noi la vediamo immediatamente nel bambino che è costretto ai pochi dati che ha a trovare delle connessioni simboliche tra le cose siamo sempre animali simbolici però nel bambino si vede particolarmente intenso intensa l'attività simbolica cioè la capacità di rappresentare la cosa che non c'è no? noi lo chiamo di dargli il tentativo lo sforzo continuo di dare nomi alle cose innominate ancora di dare figura alle cose ecco la religione coglie questo strato fondamentale diciamo dell'esistere questa è la sua capacità di selezione sostanzialmente mentre invece la laicità ha questa difficoltà questa debolezza questa tentazione di essere espressione soprattutto o desiderio del nostro stato adulto cioè la difficoltà del pensiero del criterio laico rispetto a quello religioso è che il religioso ti coglie nell'elemento primario delle tue paure e dei tuoi desideri mentre il pensiero laico che io amo perfettamente ritenendomi appunto così laico da cercare di essere laico nei confronti della laicità cioè di criticare la laicità perché questo è un criterio laico quello di non fare diciamo feticcio la laicità stessa e allora mi sembrava che nello sforzo mio di semplificare le cose dicevo il criterio laico ha come suo paradigma fondamentale è quello dell'essere adulto e quindi della capacità di commettere razionalmente le cose mentre il pensiero religioso coglie ed è questa diciamo la sua forza secolare coglie invece il dato elementare della paura del desiderio e dell'attività simbolica diciamo l'ampiezza la più continua produzione di simboli e quindi coglie il funzionamento dell'umano nel suo elemento sorgivo dicevo lo vediamo nell'infanzia la paura del desiderio e l'intensa attività simbolica questi tre elementi sono gli elementi che reggono sostanzialmente la funzione religiosa la religione fa un'operazione molto classica che è quello di dividere il bene dal male è quello della teodicia cioè di dire facciamo che Dio sia buono allora si vuole il diavolo per rappresentare questo è interessante perché è la stessa cosa che noi vediamo nelle fiabe cioè dove la madre buona di solito è morta e la madre cantiva diventa la matrigna cioè c'è una divaricazione di queste due funzioni che invece sono collegate perché noi evidentemente se noi immaginiamo la potenza della natura la potenza di Dio eccetera noi dobbiamo a questo Dio questa potenza simbolica ci innamoriamo abbiamo un'accusamento di idealizzazione della persona di un'accusazione di un'accusazione di un'accusazione abbiamo una capacità di illusione particolarmente forte nel momento dell'innamoramento questo per dire diciamo quanto il pensiero che di Giorgio dà un sistema a delle funzioni fondamentali diciamo della nostra esistenza quindi anche questo rapporto su come funziona il rapporto di amore nel fenomeno dell'innamoramento illustra bene come funziona diciamo anche il sistema religioso e la sua capacità di captazione ecco dicevo il criterio laico ha come paradigma diciamo la persona adulta e quindi una specie di un atteggiamento particolarmente rivolto verso la concatenazione causale cioè la razionalità questa quindi la domanda è come funziona questa ragione che molto spesso sembra trovarsi in attrito dell'ipercritica nei confronti del mondo simbolico però la ragione ha questo strano comportamento che noi pensiamo alla ragione come un discorso come una capacità di discorso di discorso anche lungo cioè di discorso capace di lunghi pensieri di connessioni conseguenziali conseguenziali però se il discorso naviga su un tessuto che non è razionale che si chiama linguaggio la ragione è un'attitudine diciamo a parlare e quindi a parlare sul linguaggio e il linguaggio non è un fenomeno di per sé stesso razionale anzi è un fenomeno eminentemente simbolico ecco quindi io stavo svolgendo diciamo una critica alla ragione come diciamo il punto di cui si vanta soprattutto il pensiero laico come una cosa che deve avere coscienza di qual è il suo rapporto con la non ragione cioè che la ragione si muove vive dentro un ambiente fortemente simbolico e non razionale di per sé stesso come il linguaggio questo mi sembrava importante perché è un elemento diciamo di in cui il pensiero laico può istigare se stesso a non prendere coscienza di che cos'è lui stesso cioè se la ragione non fa la critica della ragione dicendo io sono un'isola dentro un mare di potenze simboliche se non mi rendo conto che navigo sul linguaggio e sull'attività simbolica perdo la consapevolezza di me stesso questa sarebbe una critica che io rivolgo diciamo a un vanto laico che diventa fede nella ragione cioè che il razionalismo ha a monte un atto di fede cioè un atto di fede nella ragione allora questo è un elemento da criticare da parte del ragione e del laico stesso noi partiamo da un atto di fede che deve essere invece sottoposto a critica sapendo appunto non soltanto questa cosa che diceva del linguaggio ma che i punti su cui noi applichiamo la nostra ragione sono scelti per passione cioè non sono scelte razionalmente se io dico adesso faccio lo scienziato allora facendo lo scienziato io naturalmente lì esplico il massimo possibile della mia ragionevolezza e razionalità però faccio lo scienziato in quel campo perché mi piace molto fin da bambino volevo fare il chimico perché mi hanno regalato il piccolo chimico mi è piaciuto moltissimo scoppiare delle cose vedere delle provette che fumavano e quindi mi è venuto un amore appassionato per questa cosa e quindi ho scelto passionalmente questa cosa su cui applico la ragione quindi diciamo la ragione comincia a funzionare a valle di un atto di fede nel profondo della ragione sul tessuto non razionale che è il linguaggio è evidentemente simbolico che è il linguaggio e scegli i suoi punti di applicazione per passione questo qui sarebbe diciamo quindi la ragione risulta essere diciamo una perla molto preziosa incastonata in questo ambiente in questo spazio in questo flusso diciamo di cose che non sono essenzialmente razionali ma sono eminentemente simboliche o anche psicologiche questo qui è quello che è questo secondo me è una laicità quando lo parli dice la metafisica che studia i nostri modi di pensare dice rendiamoci conto di questa per dire mi sembra di poter dire che per passione della ragione Freud ha cominciato a pensare e a studiare le ragioni delle passioni diciamo così la sua passione per la ragione l'ha applicata a individuare quali sono le ragioni delle passioni di spingarne come funziona ecco questo gioco qui mi sembra importante per l'autoconsapevolezza del pensiero laico ecco allora mi sembrava di dire che ho quasi finito mi sembrava di dire appunto quanto è razionale la ragione qual è l'ambiente in cui la ragione è e quindi è importante una riflessione su quello che la parte essenziale cioè se l'uomo l'essere umano è un animale simbolico come il pensiero della laicità si applica al simbolico e come il pensiero della religione si applica al simbolico così come dicevo tutte e due si trovano a fare i conti col mistero solo che la religione gli mette una copertura immaginando che Dio sa qual è il senso invece il pensiero laico coraggioso dice c'è il mistero ed effettivamente è un mistero così per quanto riguarda il simbolico allora dicevo appunto che il pensiero laico deve astenersi da rimuovere il simbolico perché ho detto diciamo in che ambiente di simbolico si trova la ragione e talvolta questo lo fa diciamo il pensiero laico molto spesso mi sembra che degradi si degradi da un lato a non riconoscere che si muove in un orizzonte di mistero per cui diventa buon senso questo è il vizio del pensiero laico quello di diventare buon senso oppure rispetto al simbolico tende a non riconoscere questa funzione sostanzialmente mentre invece la religione falsifica il simbolico per sua vocazione come lo falsifica cioè ero andato a vedere sul vocabolario che cosa vuol dire simbolo a parte tutte le robe greche su un ballo questo che non mi interessa tanto e lui dice interessava questa immagine molto elementare del simbolo e cioè dice è come quelle monete speziate che gli amanti usano e c'è la parte spezzata che coincide poi esattamente con l'altra parte spezzata della moneta che ha l'amante e allora vuol dire ragionando sopra allora come funziona il simbolo funziona dalla parte della sua dissolvenza e non dalla parte della sua evidenza cioè questa moneta è simbolica per la sua rottura nel lato della sua rottura e non nella parte della sua interezza ecco qui già c'è diciamo l'equivoco sul simbolico della religione e cioè quello di dire adesso io ti rappresento una madonna ti rappresento un essere di se stessa metafisico dopodiché quello che conta è la sua evidenza e ti dimentichi con la sua dissolvenza perché questo qui è l'innesco di un unico pensiero idolatrico che sia un'idoletria ideologica sia un'ideoletria religiosa nell'ideologia per esempio l'ideologia diventa così potente da sostituirsi al reale diventa un luogo di illusione in cui l'elemento ideologico diventa più reale del reale e tu ti applici diciamo a quello che dice l'ideologia di un certo tipo di traduzione queste sono esperienze storiche disastrose del XX secolo abbondantemente mi pare che sia nato così e così nella religione prendiamo per esempio il caso della transustanziazione il nome bellissimo di questa cosa stramparata che dice che nell'ostia nel vino c'è realmente il sangue e il corpo di Cristo questo realmente è la desimbolizzazione dell'ostia del vino perché dice realmente qui c'è cioè non è che ci sia l'elemento di dissolvenza per cui questo rappresenta qualcosa che è assente no è proprio presente in questo questo è il meccanismo stesso dell'idolatria del fatto che il pezzo di legno in cui rappresenta il divino diventa divino ecco questo lì è il metodo in cui il simbolico rovescia se stessa nega se stessa disembolizza il simbolo questo qui mi sembra forse interessante è una cosa che noi possiamo avere continuamente nel linguaggio stesso cioè in cui la parola che ha una dimensione simbolica molto forte noi lo prendiamo alla lettera invece che per quello che rappresenta è assente presente quindi questo equivoco dell'idolatrico è continuamente presente è una tentazione presente cioè nel fatto stesso che noi siamo capaci di sostituire l'assente per questo linguaggio questa stessa funzione che è importantissima per noi per l'essere umano che parla che vive nel linguaggio e così via questo ribaltamento per cui la parola diventa più reale della cosa che designa è una tentazione continua ed è quello su cui la religione rovescia per finita simboli grande produttrice di simboli e grande mistificatrice della funzione stessa del simbolo questo è non so se mi chiede ma ci ho provato ci provo come è stesso ecco ecco questo ecco mentre mi convincevano abbastanza questi ragionamenti poi dopo quando arrivo a che cosa fare croio e quindi mi era rimasta mi era rimasta però un'immagine che mi sembrava perlomeno per finire diciamo in modo suggestivo un'immagine grandiosa che aveva in testa che è così e cioè che era così questo è l'ultimo racconto che volevo fare per immagine era così quando si esce della stazione Termini di Roma si vedono in cielo questi stormi sigaliteschi che fanno delle figure meravigliose e questi stormi credo che si regolino attraverso impulsi dei tweet dei tweet è qui fa qui 5D degli impulsi rapidissimi per cui formano queste figure meravigliose attraverso messaggi cortissimi tra tutti gli elementi di queste di questo stormi e mi dicevo questo somiglia molto ai fenomeni d'opinione per tweet appunto cioè ci sono questi movimenti di opinioni grandiosi che in gran parte critichi come sono probabilmente questi messaggi del genere che per contatto per vista immediata per cinguettino si regolano e questo qui somiglia effettivamente al tweet e poi dico ma questo non somiglia per caso moltissimo anche al funzionamento del mercato finanziario internazionale che per tweet rapidissimi sposta enormi quantità di segni finanziari da una parte all'altra distruggendo qua urlano queste prefigure che vedevo collegate da come immagini dicono una cosa in realtà molto minacciosa e cioè il fatto parlato prima di linguaggio di ragione eccetera esaltando l'importanza del discorso lungo delle connessioni che sono esattamente il contrario di quello che avviene attualmente come contrazione estrema del discorso come contrazione degli impulsi questa non è che non formi delle meravigliose immagini come queste degli uccidi però è una cosa che travalica continuamente quello che è il vessillo della laicità con tutte le sue critiche eccetera che il ragionamento e cioè il pensiero lungo e anche il racconto lungo di come va il mondo come dovrebbe andare eccetera e questo è diciamo una battaglia di fondo proprio del pensiero laico cioè se il pensiero laico non vuole distruggere l'elemento religioso semplicemente riducendo il pensiero religioso è un antidoto a questa immediatezza perché dice c'è qualcosa di assolutamente fermo nella fede quindi tanto più se questo discorso diventa contratto così tanto più si ha bisogno psicologico no gli avviene dei punti fermi e quindi la sua densa del pensiero religioso aumenta secondo me in questa migrazione continua del pensiero in questa contrazione estrema no del pensiero e in cui diciamo l'individuo diventa una cosa molto orabile perché come quella degli uccelli sono semplicemente diciamo dei fenomeni continuamente in situazioni passeggere in situazioni che non hanno riferimento questa situazione è una situazione distruttiva nei confronti di una cosa molto preziosa che dice ok la ragione è il discorso cioè è una distruzione di lingua il tweet è una cosa che sta distruggendo la lingua no giustamente perché la lingua il linguaggio è quello che sorregge il ragionamento e anche il racconto ma il racconto non è di per se stesso razionale però è diciamo un'immaginazione promulgata no ecco questo mi sembrava con queste immagini vorrei dire qual è la sfida che un pensiero laico come pensiero capace di ragionamento di riflessione quindi di connessione complessa ecco la differenza sì no c'erano altre immagini ma che sono un po' di esagerare e ecco questa è la situazione che senza sapere dove andare a finire possiamo rifugiarci molto finito l'ultima parte possiamo rifugiarci molto fattivamente anche quali sono le battaglie di laicità che è necessario fare tenendo conto del fatto che la grande persuasione simbolica che ha la religione è una cosa che confedisce un potere politico gigantesco alla religione e al sistema religioso e quindi la lotta politica contro questa pretesa di potere no che si basa effettivamente sulla capacità di persuasione sul bisogno di avere punti fermi di fronte agli stormi mobili degli stormi credo che siano stormi termini rende tanto più potente diciamo questo pericolo cioè il pericolo del potere associato alla capacità simbolica al bisogno simbolico di trovare punti prolungati punti termi no che si rappresentano molto nelle immaginazioni della fede grazie 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 allora potete parlare sì no devo fare la prima sono cinque generazioni che non sappiamo neanche cosa era religiosa ma non siamo avanti semplicemente non sappiamo cinque generazioni di razionità questa premessa è necessaria per dire che sono particolarmente colpito dal tuo discorso e lo dico con assoluta sincerità con tutti i presenti che mi conoscono sanno perché la tua è una spinta verso il luminoso non verso il laico è una ricerca da come la ricerca da come la ricerca del luminoso non ho detto della religione ho detto del luminoso anche per i tuoi interventi sulla verità eccetera a me pare così li sento in molte parti ma non particolarmente anzitutto mi sento sul concetto di ragione mi sento sul concetto di ragione in forma abbastanza tragica prendo una frasetta dell'ottocento del film dell'ottocento la ris della raison ecco io quella frase la interpreto quella frase la interpreto come una stanza della ragione che si di chissà e come si 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 maschera si maschera sostanzialmente nelle derivazioni parigliane se raccontiamo il raccontiamo agli altri delle cose che in fondo sono semplicemente dei labili discorsi d'altro canto io vedo io identifico anche storicamente la laicità dal punto di vista storico e vedo già tuo fratello armato finidente pronto a protestare lo lascio fare a lui trovo già a me ecco io intravedo i primordi di una forma ancora milionare della città per esempio in Enrico II post plantagereto naturalmente quando si appropria di alcuni beni di monaci e poi per essere più sicuro forciverà anche Thomas Peck quindi siamo a posto e lo vedo anche ancora più fortemente in Filippo il Bello quando si appropria davvero dei venti e si oppone a Bonifaccio VIII cosa che ha rallegrato suppongo Dante se era ancora vivo adesso non ricordo più allora la laicità mi sembra data in qualche modo icasticamente con la coppia 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 che si veste super elegantemente e si specchia in due specchi e in questi specchi si specchiano altre due persone lontane altrettanto ben vestite la coppia la coppia con la coppia è praticamente il primo ritratto laico di un laico che non sia un signore del Mariero o ne sia la moglie del signore del Mariero conclusione o quasi dei miei discorsi i miei discorsi non hanno mai conclusione per la verità non è che la laicità è un momento pregnante della borghesia che cresce e diventi ancora più forte nel diciannovesimo secolo quando effettivamente la borghesia prende definitivamente il potere in sostanza il laicismo non c'è nessuno più laico di Rastignac tutto sommato allora io ho qualche dubbio ho qualche dubbio perché ho visto e sono un vecchio piccino ho visto specialmente dopo il 45 nascere delle religioni laiche che sono cadute cadute spontaneamente non è che qualcuno le abbia distrutte sono proprio cadute allora se le religioni laiche non sono un troppo non sono un luogo comune non c'è forse bisogno di un altro luogo comune molto più stabile e molto più definitivo anche perché secondo Jung su Giope Yahweh attraverso quella condiscendenza di Giope in fondo era condiscendenza si era un po' laicizzato anche se Satana Elohim era diventato più cattivo di Satana vediamo se qualcosa te l'ho appuntato da te tutto dopo poi fare il secondo la una anche per la prima appunto sempre la temporalezza il problema del tempo l'ha identificato negli ultimi interventi che hai fatto no? il problema del tempo secondo me è importantissimo ed è politico il problema del tempo è politico cioè se il tempo si è ridotto a tempi reali se la politica non dà speranze per il futuro perché è secolare e cupida il secolare beh non sarebbe il momento di ottimizzare qualcosa che ci facesse trasecolare qualcosa non voglio sapere qualcosa che ci facesse trasecolare ma ricordo alla fine che due mangiaparetti io e macchiaretti dicevano che un buon cittadino in qualche modo rispetta la religione e aggiungo io la strumentarietà se può la strumentarietà grazie io rispondo voglio voglio no bene altro permesso per me sarebbero moltissime nel senso che seguo e godo della tua libertà di muoverti in territori diversi che passano dalla letteratura alla religione alla filosofia alla politica e di produrre queste connessioni e devo dire che così ne sono un po' seduta e un po' continuamente devo ritradurre in linguaggi che mi portino in un terreno dove in qualche modo appunto con la passione della ragione di cui tu hai riferito che è anche quella di tanti di noi piccoli territori nei quali è stato prodotto un pensiero che ha messo come dire degli anelli in più se vogliamo nel modo di trattare ad esempio il tema della posizione tra ragione e ciò che ragione non è tra ciò che è simbolico e ciò che non è simbolico tra ciò che è adulto e ciò che è infanzia infanzia non accetta la parola allora io avrei bisogno di parlare a lungo con te di queste cose perché su molte di queste cose ho dei dubbi e i dubbi un dubbio li enumerò così ma in modo molto irregolare però c'era una cosa che mi interessava dirti perché ho avuto un pezzo di pensiero che mi ha illuminato magari non so forse voi vi aspettavate un discorso più politico invece stiamo facendo un discorso che ha a che fare più con delle cause prime ma penso che poi Stefano ci ha mostrato bene i messi sono lì stanno lì allora tu dici i rabbini dicevano no perché il can per è una caricatura è una caricatura no no ma a me è piaciuta non questa premiamolo come premiamolo come un esempio ma ci sono queste che ho dedicato a perché evita evita patrociate allora il bambino impara tu hai evocato molto spesso il bambino l'infante il rapporto tra adulto e bambino la ragione e la non ragione la religione e la laicità secondo due assi che si divaricano in qualche modo stanno da una parte ci sta l'adulto la laicità e la ragione dall'altra parte ci sta il bambino l'infanzia l'irrazionale io che ti ascolto naturalmente come psicoanalista non posso non esserlo per me questa partizione non esiste più proprio non esiste nel senso che ciò che tu chiami ragione se è frutto di quella partizione lì è la raccolta ciò che io chiamo razionalizzazione un paziente ossessivo è quanto di più razionale ci sia però la sua ossessività è basata su una profonda lacerazione psichica perché non ha accesso a un irrazionale che gli permetta di produrre quel tanto di ragione che è quella passione per la ragione che tu hai citato mettendo così bene in forma questa immagine questa figura che poi rappresenta Freud la passione della ragione per riuscire a mettere ragione dove c'è la passione ma qui c'è stata scoprire la ragione delle passioni ma qui c'è stata una voglio dire c'è stata comunque una cesura nella nostra cultura nel senso che qualcosa ha tenuto ha rimesso insieme ha rimesso in gioco delle partizioni che per me non si danno più così ma un'altra cosa per me è grande problema non so se ha a che fare direttamente col tema della laicità ma sicuramente ha a che fare col tema della credenza del credere e della ragione perché tu hai parlato molto di religione e lì se vuoi il gioco è più facile sul tema religione cioè credenza organizzata la religione è il potere di un'organizzazione sociale ma il credere e la fede è un'altra cosa e si pone in una maniera diversa in relazione alla ragione e io non vedo questo tipo di contrapposizioni né vedo che quando tu dici che lo dice è così no forse ho capito male no allora no no voglio dire è come se precedesse la conoscenza da parte del bambino è immediata o del o del soggetto che deve apprendere o darsi una ragione del perché c'è qualcun altro che dà preventivamente un perché che dà una risposta prima che il bambino possa fare esperienza o che possa con la sua ragione arrivare a darsi un perché anche dove non c'è perché perché lì è tutto si apre un'altra questione ma questo mi serviva per dire che quello che per me è difficile pensare che non sia immesso è la funzione dell'altro di chi media di chi media la verità perché il bambino acquisisce la capacità di conoscere perché tre perché prima di tutto c'è un adulto che dà senso a ciò che il bambino esperisce perché il bambino che ho visto io due ore fa che è stato i primi due anni della sua vita in un lettino in un istituto e non ha chissà chi ha mediato il mondo in cui è capitato a vivere che è il mondo di tutti non ha gli strumenti per riconoscerlo e per conoscerlo in un modo se vuoi laico come dice dov'è questo altro che fa da mediatore nella conoscenza e nell'esperienza del mondo e nell'esperienza comune cioè comune nel senso condivisa perciò voglio dire anche sul tema appunto di contrapporre per me il simbolo è vero che è il luogo della massima aleatorietà perché questa coincidenza non c'è mai è l'illusione degli amanti di poter trovare questo pezzo che combini perfettamente ma Winnicott ci ha insegnato che nessun soggetto può vivere al mondo in un modo sufficientemente sano se non sviluppa la capacità di illudersi di illudersi che questa coincidenza sia esista perciò io non faccio fatica te lo dico sinceramente a seguirti anche se ho il cerchio di leggere l'insieme del tuo procedere proprio per queste due questioni che ripeto sono la presenza dell'altro il tema di come usare di che cos'è la realtà e la realtà psichica e veramente che cos'è cioè questo rapporto tra fede e ragione che non è il rapporto tra fede e tra ragione e religione cioè per me sono proprio ambiti diversi è una critica la mente solo una cosa veloce turissima una cosa veloce c'è un altro elemento secondo me che è l'altro però c'è anche l'evento cioè il bambino non ha solo in questo momento a un certo punto può fare un'esperienza o comunque una persona può fare un'esperienza rispetto alla quale la propria ragione si sente interpellata questo è un altro elemento perché lei diceva qual è la ragione della passione mi piace lo faccio ma perché mi piace quindi è ancora più profondo in questo senso secondo me c'è un evento c'è un mistero rispetto al quale uno si può stupire può desiderare può anche prendere paura però comunque c'è un evento rispetto a quell'evento lì secondo me c'è un aspetto molto molto interessante perché è assolutamente personale non c'è nulla di religiosa non c'è nulla di rocco nulla di liceo nulla di laicista nel senso di legalista nulla di razionale del percorso della ricerca del liberarsi dalle passioni sofferenza tanto in una vera risposta e anzi dell'andare al di là dell'essere del non essere cioè mi sembra molto laico questo buddismo per esempio lo paralizzo un po' così però penso che sia molto importante perché sempre più avremo bisogno di aprire gli occhi le porte del nostro pensiero pensando a un mondo plurimo in cui la centralità della nostra ragione occidentale iscritta in quella storia così così forte e pesante andrebbe messa in discussione o comunque andrebbe aperta negli spazi di via e sul buddismo praticamente alcune cose che tu hai detto non le ritrovo ecco la seconda cosa è sul tema sempre rimanendo su questo un po' individualismo comunità individualismo olismo no? allora lo stormo lo stormo funziona proprio perché ha quei meccanismi lì perché è un organismo collettivo non è più il soggetto cioè non c'è più l'uccello dentro rispetto allo stormo è lo stormo il soggetto e se se scattasse un meccanismo in cui uno degli uccelli comincia a dubitare o interrogarsi sarebbe il caos sarebbe il collasso dello stormo lo stormo non è basbattere si disegregherebbe e così voglio dire funziona su tanti organismi collettivi però pensino l'unico dello stormo no pensino l'unico dello stormo la realtà la realtà è fatta di una quantità di organismi collettivi che sono andati crescendo per storie parallele ma poi sono entrate anche il problema della lecità così descritta mi sembra molto appunto il bisogno che ci sia in qualche modo un uccello fuori dallo stormo che rimane molto vigile che si interroga e che aiuta anche a pensare che se lo stormo decide in qualche modo di avere un progetto suicida in qualche modo c'è qualcuno che potrebbe rappresentare una speranza anche per l'organismo no una sorta di di sentinella no che dice agro stormo ma insomma c'è questa cosa che fa la Bibbia c'è l'anfa eh c'è l'anfa la terza cosa è invece sul tema attesa ricerca cioè questa questa attesa dell'escaton della rivelazione no del io per esempio vi ricordo quando ho sentito un paio di volte Sergio Quinzio che a Venezia tanti anni fa e lui il suo pensiero di ricerca era una fede di ricerca non era una fede no ed era una fede di ricerca di grande tensione contro l'evidenza delle cose no questa cosa della risurrezione dei corpi per esempio era evidente che c'era c'era questo questo disperato bisogno di cercare però era una tensione molto laica cioè io non so la vedevo molto molto laica in questo senso nel senso che la apriva un percorso di ricerca e di continuo stare tra delusione negazione di quella quella attesa e continuo rilancio dell'attesa non è anche questo un pensiero in qualche modo che si fa laico quando lascia aperto questo spazio di continua ricerca che è quindi di messa in discussione continuamente anche la dimensione della fede una fede che si interroga e che non lo so queste sono le tre cose che mi hanno bisogno posso fare una domanda io volevo chiedere banalmente come si fa essere laici si può essere veramente laici perché per esempio mi chiedo la religione si sa diventiamo religiosi siamo no siamo già assumiamo una religione comunque invece laicità mi sembra costruita come su un castello come un castello costruito su delle rovine della religione in qualche modo parlando come per immagini e anche il suo discorso che mi è piaciuto moltissimo mi sembra quasi che sostituisca l'idea di religione con l'idea di laicità in qualche modo cioè la religione la religione diventa si l'ha detto l'ha detto che Franco l'ha detto lui all'interno no 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 mi sembra mi sembra non avevo capito è il discorso all'inizio no e anche sentendo anche sentendo il suo discorso mi sembra che lei sostituisca cioè l'idea della laicità la trasformi come non sia come non so forse lei ci sa è anche difficile essere veramente laici ma mi sembra come che lei sostituisca l'idea della religione con l'idea della laicità in qualche modo diventi laicità diventi una religione sono stato chiaro? eh sì guarda devo rispondere a qualcosa? sì dai questo fuoco questo fuoco scusate no anche per la questione dello storico brevemente come come la di Lorenzo notava per esempio sta tramontando il sole allora gli uccelli fanno chip chip poi a un certo punto c'è uno che dice ciò poi dopo ce n'è un altro che dice ciò no per dire no quindi questa è un'altra metafora per dire che gli stormi sì c'è un certo punto uno che rompe il luogo sommone diciamo dello stormo durante il giorno e poi inizia a dire un'altra parola alla fine la maggioranza dice ciò e allora tutti quanti vanno a dormire perché hanno stabilito diciamo che questo era un'avanguardia del fatto della scoperta del fatto che il sole stava tramontando no questo era soltanto uno svoraccio per facilitare poi è verissimo che io anzi questo mio libro premetto io mi muovo in un ambiente di derivazione ebraica e cristiana e biblica quindi di certe cose non ne so abbastanza quindi certamente questo è un limite geografico storico in cui mi trovo e quindi certe cose ne so troppo poco per trattare che è un limite di quello che riesco a dire non c'è dubbio no non vi imprezza questo però è un limite scusa è un limite che ci preoccupa molto perché voglio dire comunque la nostra società la società in cui viviamo è meglio che si svegli no è una società che si sta costruendo attorno a voglio dire sta diventando non più quella tradizione basta voglio dire questo è un limite per cui questo libro sarà rapidamente superato dalle migrazioni per esempio per la comunità buddistica l'altro giorno l'autorizzazione è l'otto per mille mi sono rimasto un po' in inizio e l'ho riconosco ho fatto quel che potevo fino ad adesso di questo qui c'è sempre un limite della mia capacità e anche quello che riesco a dire e poi abbiamo anche messo le mani avanti dicendo adesso sto schematizzando per cui non parlo di casi mettiamo come quello di Sergio Quinzio però lo riassumevano il fatto che persino un libro biblico cioè come interprete del libro di Giombe persino Dio è laico quindi anche Quinzio diciamo può esplorare e poter mettersi di essere nel senso che questo segno di Dio può essere rappresentato sia come diciamo orizzonti irraggiungibili quindi con questa sensazione del mistero che comunque fermare oppure invece può essere l'elemento di proiezione di cose che lo fermano non nego affatto diciamo che Sergio Quinzio adesse questa cosa infatti ho detto non parlerò di quei laici che sono anche religiosi mettiamo per metterle le mani avanti quindi non è che disconosca ho imparato tante cose anche da Quinzio diciamo uno degli altri schemi che me l'ho fatto era questo che si basa diciamo sul è questo che lei diceva la borghesia a un certo punto dagli agronafini in poi fa questa questa cosa in un certo senso il discorso borghese è qualche cosa che riesce a trovare a ragionare su degli strumenti su delle capacità di intervenire sul reale particolarmente po' in un certo senso è un atteggiamento storico in cui la la razionalità che diventa poi dopo anche l'industrializzazione eccetera eccetera dà la sensazione di una capacità di controllo del mondo io ho partito sul fatto delle pulsioni della paura e del desiderio e avevo detto una delle pulsioni della paura è proprio quella di riuscire a controllare l'ambiente in cui sei la facevo risalire addirittura a una pulsione essenziale per il bambino del fatto di precipitarsi a fare questo cioè di dare immaginare come funzionano le cose naturalmente con la mediazione di chi viene in senso il bambino è un assorbente un imitatore l'ambiente sociale in cui si muove è immediatamente quello del linguaggio quindi non ho mai parlato di individuo isolato cioè insistendo il mio discorso sul linguaggio lo buttavo immediatamente sinteticamente sul sociale cioè il fatto che il bambino impari imitando a parlare questo lo inserisce in un ambiente collettivo e sociale che è rappresentato per esempio certamente dal linguaggio c'è che qualcuno glielo insegna qualcuno li fa da mediatore nel sistema di significazione delle cose e della rappresentazione linguistica delle cose è immediatamente sociale il fatto che il bambino impari a parlare non è impari a parlare una sua lingua particolare impari a parlare imitando quello che fanno si fa collettivamente no ma dicevo quindi questa l'elemento laico che viene introdotto diciamo storicamente io lo vedevo come fortemente connesso a un balzo in avanti degli strumenti di regolazione del mondo che crea anche l'illusione che tu controlli di più di quanto non controlli cioè questo qui è stato in gran parte l'illusione razionalistica mi è sempre perso molto significativo diciamo il ragionamento che fa Voltaire quando succede il grande disastro di Lisbona nel 1755 in cui hai voglia a te dell'illuminismo ragione eccetera di controllare le cose poi ti succede un terremoto terrificante e ti rendi conto che non è vero però nasce l'antisismica eh? però nasce l'antisismica ma proprio nel momento in cui tu hai sconfitto o ti illudi di aver sconfitto gran parte dell'angoscia del non sapere controllare l'ambiente in cui vivi poi ci sono delle irruzioni diciamo di realtà che colpiscono proprio quelli diciamo che sono stati i fautori diciamo del fatto che adesso l'essere umano è più padrone di prima del suo destino quindi ha meno bisogno dell'illusione codificata della religione quindi possiamo passare un po' l'illuminismo a questo cioè mi hanno fatto un'idea che nei vari cicli storici ci potesse essere una correlazione forte tra la sensazione di avere il controllo strumentale anche intellettuale e strumentale sul mondo che che questo inducesse un elemento di riduzione dell'elemento religioso e tutte le volte invece in cui si trovi in una situazione storica più caotica questo aiutasse e fomentasse invece un ricorso di nuovo al pensiero religioso cioè che ci fosse questa correlazione qua e quindi in questo periodo mi pareva che essendo un caos diciamo essendosi frantumati diciamo buona parte degli strumenti intellettuali e tecnici del del controllo sul mondo questo di essere un accesso e quindi essendo in crisi i nostri criteri hanno fatto il controllo sul mondo e per questo mi basavo su quella immagine del quiz del quiz in breve forme di storm il quiz elettronico e la finanza internazionale sono le cose che si vedono al controllo umano quindi il fatto è tanto vero che forme religiose acquistano i discorsi politici come per esempio il fatto che i mercati sono delle forme impersonali che dominano le destine degli uomini e sfuggono però al controllo stesso degli uomini e gli umani è una cosa che per esempio la borghesia classica studiata da Marx aveva questa abitudine di dire che quello che serviva a lei era naturale i mercati hanno l'aspetto di una potenza naturale cioè che sono impersonali e agiscono sul vostro destino no? siamo da capo da questo punto di vista cioè la feticizzazione delle merci in Marx e la feticizzazione e il feticismo dei mercati o degli strumenti che fanno il mercato cioè i tweet dei cronatori elettronici che muovono le grandi masse finanziarie anche se posso si può interrodi su questa questione raffinata perché in realtà quello che succede è che c'è una sorta di separazione tra una razionalità di un'elite perché esistono gli algoritmi che gestiscono certe operazioni di movimenti di speculazioni e la religione che è con virgolette senza virgolette della massa anche da un punto di vista della conoscenza dell'accesso all'amore di dire no ma voglio dire gli sacerdoti sono gli sacerdoti degli algoritmi anche per il movimento degli strumenti dei bracchi di pesce un meccanismo di tipo religioso ma nel senso più politico di te ma come se la piazza fia con c'è questo però quelli sono codificati da milioni di anni ma che li ho concepiti no appunto il discorso il caso che il città si svola è molto interessante perché ci sono tre pareti che è guarata sull'epoca uno è di lusso e poi ci sono periodi di laicidiazione di secolarizzazione e dei periodi invece in relazione a una caoticità nuova in cui l'elemento religioso si riattaccia magari non religione canonica ma strutturalità diciamo di tipo religioso c'è di bisogno di un ordine simbolico che riassuma delle cose che non riesce invece a razionalizzare bene questo qui era il mio tentativo di schematizzare per cui penso che ci sono diverse situazioni storiche anche nell'antichità in cui c'è questa pulsazione diversa tra massimo di religiosità e massimo di razionalità a seconda della verità e illusione di controllo del mondo questo è il tentativo di risposta grazie tra l'altro sulla questione della catastrofe il mio grande maestro Giacomo Leopardi lo fa su Pompei cioè lo fa nella ginescra ed esattamente è un pensiero laico di tipo anche metafisico confondamente laico semplicemente dicevi per il tuo diario oppure immaginate che questi che fanno queste cose vengono giù sulla terra a parlare piacevolmente con voi che è l'illusione religiosa eccetera ecco per quanto riguarda quello che dice Roberta prima di tutto io non penso ho detto che queste due impulsioni che ritengo fondamentali paura e desiderio si rivelano particolarmente in forma particolarmente intensa nel bambino ma persistono per tutta la vita quindi non stavo facendo una distinzione netta stavo dicendo soltanto che negli adulti noi abbiamo costruito diciamo delle forme che possono essere anche quelle della razionalizzazione che corrispondono benissimo a questo fatto abbiamo costruito delle abitudini compreso la razionalizzazione è una forma di abitudine cioè di applicare il nostro sistema di riparo dal caos e quindi la razionalizzazione è un sistema di riparo dal caos cioè nel fatto che noi ci spieghiamo una cosa inventandoci la spiegazione che mette la forma razionale dentro una cosa che vogliamo controllare perché se no si travolge così lo comprenderei quindi la differenza dell'adulto dal bambino non è nel fatto che non lavorino più queste due pulsioni è che nel bambino sono praticamente potenti e la sua necessità di simbolizzare è particolarmente potente dopo di che la simbolizzazione magari diventa abitudine e diventa canonizzata nel bambino dell'adulto abbiamo un luco di sistemi di sedimentazione di quelli che sono gli strumenti di riparo della mangoscia del caos però queste cose qui continuano ce ne dimentichiamo magari perché appunto le abbiamo incistate in sistemi di riparo che sono una caratteristica dell'adulto e anche del suo diventare un po' più scemo il fatto che siccome dicendo che Freud dicesse una cosa molto stimolante dicendo spendiamo un buco di energie per ripararci dagli stimoli no e quindi l'adulto è quello che ha accumulato una grande quantità di ripari dagli stimoli no mentre invece il bambino è ancora molto esposto per questo viviamo in lui non perché infante ingenue eccetera ma semplicemente perché è più legata la sua necessità di simbolizzare di imparare a parlare di tarsi in idea ha uno stato di necessità e più direttamente no cioè in quanto straniero in un mondo straniero no in quanto uno sbarcato no da 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 barche in pericolo diciamo su questo mondo ha immediatamente più fortemente più evidente più in evidenza no lo vediamo con più evidenza la sua necessità di organizzare quanto i pochi dati che hanno connetto no quindi vediamo una cosa che noi per fortuna abbiamo continuamente fino alla morte però diventando adulti abbiamo dei sistemi codificati di riparo che abbiamo sistemati e razionalizzati quindi non facevo questa distinzione e invece sulla realtà psichica cioè ecco a me pare che uno delle grandi fatiche della laicità è quella di riuscire a considerare il funzionamento psichico come una realtà ma al tempo stesso quello di combattere la sua cristallizzazione quando è in contraddizione con la realtà a me pare che questo sia un lavoro di laicitazione particolare perché è vero che la religione ti dice la transustanziazione è un fatto reale no a me pare serio però quello di dire no è un fatto simbolico e quindi come tale non devi credere che sia realmente questo cioè mi sembra che la critica laica alla religione sia questa cioè questa è una creazione di illusioni noi abbiamo tutto il rispetto per l'illusione perché senza illusioni non viviamo no e diceva per esempio per un ultimo momento vorrei solo ricordare una cosa Lutero e Zwingli un giorno si sono incontrati e hanno discusso della transustanziazione Lutero diceva è reale e Zwingli diceva ma no è simbolico allora Lutero si è talmente incazzato che ha preso il coltello che aveva al fianco e l'ha piantato sul tavolo davanti a Zwingli interrompendo i rapporti con l'uniglianesimo cioè sono due cose diverse effettivamente si scusami ma mi ha sempre impressionato questa storia nel contatto nel contatto nel 2017 avremo le 99 tesi di Lutero sarà bello riparlare del contatto di Lutero nella commemorazione no mi pare appunto questo che uno dei compiti della laicità è quello di sottoporre a critica l'illusione però al tempo stesso sapere laicamente che l'illusione è essenziale cioè dicevo se le civiltà non avessero avuto l'illusione di un tempo lungo per esempio non avremmo piramidi capibrali e lo che è interessantissimo è il fatto che le cose più belle del mondo siano nate su un'illusione io notavo per esempio il fatto che la divina commedia che è una cosa che non sono molto originale ad amare per tutta mente si basa su un'idea completamente straimparata che è l'immortalità dell'anima però se non avesse avuto questa idea noi non avremmo la divina commedia quindi questo qui è il terreno difficile della laicità cioè quello di riuscire a capire laicamente l'importanza vitale dell'illusione e continuare a corroderla e questo qui allora qui c'è questo passo ancora del mio Leopardi che trovavo veramente meraviglioso che Leopardi diceva questa cosa le illusioni non possono essere condannate spregiate perseguitate se non dagli illusi e quindi il mezzo filosofo combatte le illusioni perché appunto è illuso cioè dice l'importanza vitale dell'illusione il vero filosofo le ama e le predica perché non è illuso e il combattere le illusioni in genere è il più certo segno di imperfettissimo e insufficientissimo sapere e di notabile illusione mi pareva bellissimo questo non toglie a me pare quello che dico però l'acrobazia laica è ancora più audace perché combattere le illusioni sapendo che l'idea di eliminare le illusioni è una cavolata parziale è un'illusione di tutte se stesse ma l'uso politico che si fa dell'illusione questo è anche un punto importante se non ce l'abbiamo siamo degli che si riduce a un'idea della vita che è solo come dire una relazione di causa effetto l'area dell'illusione è un'area dove nasce l'arte la creatività anche la creatività politica ecco la creatività ma illusione ha un termine un po' negativo no no la delusione è negativa questo è un po' negativo sì è il linguaggio il linguaggio è simbologico io mi trovo un po' male perché infatti un tanto che qua non si stanno facendo dopo la regola c'è un'esperienza culturale per cui volevo fare soltanto però una domanda questa storia di ciò perché stasera mi riprenderò la biblia una traduzione della cena la rileggerò di Giopega è una cosa che mi ha un po' colpito perché mi pullavo un po' non è che almeno nella sua interpretazione Dio sta dicendo al uomo mi mettete a fare teologia io sono inconoscibile da voi è un po' questo l'ho interpretato bene è una cosa che è la presunzione anche che hanno tutti rabbini hanno preti di io so cosa è giusto cosa vuole Dio un po' questo è il discorso e c'è la demediazione questo dice cioè che i miei amici di Giope rappresentano il canone più elementare della religione cioè quello che dice Dio ha sempre ragione e quindi tu sei peccatore sì cioè te lo sei e Dio dice non ha fatto vero cioè dopo è molto meglio di voi che invece vorreste ruffiare nei miei confronti dice la religione è una ruffianata nei miei confronti dice Dio di Giope è ora di finirla dopo di che se non vi punisco se non vi punisco gravemente è semplicemente per onorare il mio il mio Giope grazie a Giope insomma fate un sacrificio e me lo cavate se no se non era per Giope mi rivedevate che allora quindi mi si arrabbia proprio contro uno dei pensieri più razionalizzati della religione razionalizzati vuol dire questo che il pensiero di questi amici di Giope è questo se tu fai bene avrai il bene se tu fai il male avrai il male quindi se hai il male vuol dire che hai fatto male questo qui è quello che mi pare diciamo Aristotele chiamava paralogismo cioè che è l'inversione tra la causa e l'effetto siccome quando tu fai male sei punito se vieni punito allora vuol dire che hai fatto male ma questo è un ragionamento è un ragionamento canonico poi dopo della religione no? non lo so che arriva fino a un pensiero onnipotente che dice il male è fatto dagli esseri umani cioè l'onnipotenza nel male che c'è nella mia culpa maxima culpa è un pensiero onnipotente sostanzialmente un male deriva dagli uomini tutto il male cavolate che però fanno parte proprio del pensiero economico della religione e del desiderio di incolparsi per scagionare Dio come se Dio fosse un minus abens no? perché se non ha nessuna responsabilità nel male perché o perché è un infante che non sa di farlo parte di bambina oppure è un vecchio decrepito che no? non so non sa più intendere e volere glielo proteggo quindi c'è questa ma non è un ipotente appunto però c'è un archismo che è la riguardo comunque la cosa che irrita Dio secondo me è l'ambiente dell'azione è il paternalismo della religione di confronto ti proteggo io ti difendo io allora dire è molto in vero poco Dio di questa cosa che condanna tutti i suoi avvocati no? come questo dice gli amici di giovane avevano torto però perché non potevano immaginarsi che fosse una scommessa per gli uri che gli uri salta no? però applicavano un criterio a priori dicendo che le cose funzionano così sì e qui se uno allora si troppella la possibilità che non sai che qualcosa non sapevano è rimasto che erano scusate scusate non c'erano non c'erano ma dentro del fatto che il signor era cosa io dunque mi parli sullo concetto di illusione specialmente tra te e roberta cioè roberta era troppo positiva di fare sull'illusione e il tuo discorso sull'illusione è però una divisione tu hai parlato di alcune illusioni in sé positive che sono il futuro per esempio costruiamo e invece ci sono delle illusioni come la religione che dobbiamo accettare che esistano come fatto ma allo stesso tempo dobbiamo pian piano mettere in discussione come come riscute Freud con il futuro dell'illusione insomma allora dovresti parlare un attimo di una biforcazione dell'illusione ci vorrò ti regalo io volevo soltanto chiedere prima si è parlato di discorsi brevi tipo i tweet forse gli slogan anche e i discorsi lunghi ecco non ho capito bene lei in che maniera mette da più valore a un discorso lungo o a un tweet cioè voglio dire come non ho capito bene la concatenazione che c'è in generale sulla differenziazione tra questi due tipi secondo me è qua che dovrebbe essere posto l'accento sul linguaggio sul linguaggio che non è completamente razionale anche se viene usato dalla ragione anzi la ragione crede di avere la proprietà assoluta sul linguaggio invece la parola io non parlo per esempio molto bene in genere ma la parola perché penso che la parola abbia dei significati delle pregnanze molto profonde che devono essere riscoperte diciamo e che nel linguaggio che si usa adesso anche informatico eccetera non viene no niente volevo richiedere qualcosa di quanto questo quindi se una cosa per queste due domande se riesco mi sono cacciato nel linguaggio ovviamente siamo qui per questo cioè la delicatezza tra illusione come fatto positivo e fatto negativo è quello della possibilità sostanzialmente cioè l'illusione nel suo aspetto positivo è quello della possibilità cioè quando dico la pulsione del desiderio il desiderio ha qualcosa a che fare con l'illusione e con la possibilità la possibilità è l'aspetto positivo cioè io riesco ad avere speranza di soddisfare il mio desiderio se riesco a immaginare la sua possibilità questo qui è un aspetto costruttivo dell'illusione cioè magari poi è illusorio però è una cosa perché mi permette di scommettere per cui io faccio delle cose quindi diciamo il lato positivo dell'illusione è quando ha la possibilità e il lato negativo è l'illusione che invece è una balla diciamo così in questo senso quindi c'è naturalmente la cosa è complicata perché ci sono illusioni che sono necessarie alla tua tranquillità e illusioni che sono necessarie al tuo movimento tenendo conto tenendo conto però il fatto che un certo lato di tranquillità è necessario al tuo movimento il paradigma che diceva di Odisseo cioè Odisseo senza integra non se la cavava non so che tipo di malattia mentale gli sarebbe venuta però certamente se non avessi avuto questa prospettiva è stato uno psicotico perché avrebbe perduto l'oggetto a cui ritornare cioè noi stiamo in vita perché abbiamo un oggetto interno a cui ritornare quando la grande malattia è l'impossibilità è non avere questo oggetto interno a cui ritornare a me una volta piaceva molto una definizione che dava Cioran che diceva un poeta è un avventuriero che se ne sta in pantofole allora a me piaceva divaricare questa cosa dicendo malgrado le pantofole o grazie alle pantofole la mia risposta che mi era più simpatico era grazie alle pantofole cioè che un artista può fare l'artista e magari immaginifico se ha un luogo di sicurezza quindi qui c'è il maestro una volta scrive un libro poesia grazie al canzolaio sì mi piaceva una frase del libro Illusioni di Richard Bach che diceva cavilla sui tuoi limiti e questi ti appartaranno cavilla cavilla sui tuoi limiti e questi ti appartaranno mi sembra un po' che questo di cavillare su certi limiti sia proprio la caratteristica di molti laici nel senso che cercano di trovare una spiegazione su tutto e poi si involgono dentro loro stessi la cosa che mi faceva sorridere prima quando pensavo che alla fine tutte queste persone molto laiche alla fine poi si sono trovati costretti a ricercare la particella di Dio cioè delle persone molto razionali molto 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 laiche alla fine stanno cercando qualcosa che può essere sia un'illusione che un'intuizione siamo rientrati adesso mi pare che adesso è il nostro fratello che è un fisico forse non è un fratello un altro fratello un altro fratello un altro fratello scusa che hanno trovato diciamo una connessione finalmente tra quantistica e dell'attività io lo so come parole ma quando l'hai capito però stanno stanno una convergenza unificante dietro c'è naturalmente il monoteismo biblico è quello un discorso religioso però si pensi un discorso religioso cioè in realtà il nostro rapporto diciamo normale con la fisica è un discorso di tipo religioso secondo me cioè è una ricerca di cause che sono sempre più utili sì voglio dire il nostro accesso al sapere alla conoscenza è talmente ormai lontano è talmente separato che abbiamo un rapporto psicologicamente tipo religioso che è esattamente quando io accendo la televisione è un rapporto magico spingo il pulsante spengo e accendo il pulsante in realtà non ho nessun controllo nessuna capacità di sapere cosa accade dentro quella scatola perché produce un'immagine ecco la mia propensione è per la possibilità di fare discorsi più numerati con me e vedevo come pericolo invece questa degenerazione che veramente è l'elemento di massificazione cioè i miei ideali non sono questi stormi dicendo tanto che sono magnifici come figura ma il mio ideale sarebbe quello di riuscire a tenere diciamo il discorso che ha connessione questa è sì sì cioè diciamo il mio ideale è quello delle delle gru invece che quello degli stormi perché le gru quando vorranno fanno delle strutture geometriche fantastiche magari ramificate più volte quello lì vuol dire una capacità logica della migrazione della gru quindi forse i miei ideali intellettuali non sono altissimi cioè si limitano a cantolieri oppure stormi però sono i due paragoni delle immagini polono al polono al e polono delle strutture geometriche cioè delle capacità di riconnessione basandosi sulla logica delle correnti d'arri che creano le volte riporti no questo è uno scherzo comunque la mia propensione è la possibilità di mantenere i discorsi connessi e anche racconti diciamo quello che si dice alla moda narrazioni che mi sembra seria la cosa anche se è diventato piuttosto che dei brevissimi impulsi comunque per fare una pubblicità io ho scritto nel mio libretto un rosario laico cioè quali sono i punti che possiamo vedere come utili nell'immaginazione nell'idea di Dio evidentemente per questa corattiva che diceva quest'idea di unificare non so non so se dico giusto la quantistica quella relatività mettiamo che sia una parangione come questo che dico sembra avere come proiezione diciamo quest'idea monoteistica cioè del fatto che poi esiste questa idea dell'unificazione e questo disagio di sentire invece delle leggi fisiche che siano separate e che non si incroci quindi abbiamo fatto un rosario laico su quali sono cose serie che sono rappresentate simbolicamente nell'idea di Dio da parte di uno che non crede diciamo in Dio ma crede nell'importanza dell'idea di Dio cioè quali sono l'immaginazione dell'unificazione è un'immaginazione interessantissima e questo quindi ho fatto cinque punti di rosario laico non ci legge esatto ecco 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 nel primo mistero si contempla nell'idea di Dio la rappresentazione della necessità poi dopo nel secondo mistero la rappresentazione della necessità cioè il riconoscimento di cose che sono ecco a corollare del primo nel secondo mistero si contempla la rappresentazione dell'idea di Dio del problema della libertà cioè quindi della possibilità la terza rappresentazione fa da contrapunto al primo e cioè quella della possibilità nella quarta rappresentazione Gio ci appare come sentimento del tempo risonanza dell'eterno nell'istante no quindi questo qui è importantissimo che noi sentiamo l'illusione del fatto che noi viviamo sempre no ce l'abbiamo in ogni momento se non avessimo questa se non avessimo la fede del fatto che tra cinque minuti siamo ancora vivi non faremmo una riunione no quindi questa è un atto di fecche è un atto di fecche è un atto di fecche è così no è un atto di fecche è un atto di fecche nel quinto mistero si contempla nell'idea di Dio cioè noi in Dio ma nell'idea di Dio cioè l'idea di Dio è il simbolo di questa cosa la rappresentazione dell'alterità cioè di qualcosa che è completamente fuori è un atto di fecche